Il motivo per cui ho fatto questo workshop è perché guardando gli spettacoli di Ian ho trovato un senso diverso nel teatro. È molto interessante come gestiamo le due discipline, la danza, la musica, l'attività, la performance. È non nemmeno un workshop, è più una classe di classi perché abbiamo creato un obiettivo che ciò che ciò che sarà. Il crea tutto sul piano, con i musici, danza, gli operanti, gli autori, tutti insieme. Ho ho imparato essere più liberato sul piano e rendere confinati nei miei senti, nei miei intuici. La differenza tra riproduzione e riproduzione. La frontiera tra l'attività e la performazione. E come posso essere un'attrice, un danza, un performante, tutto insieme. Ennio Flaiano che dice questo è il gioco, cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarla. E come la Gina crea il gioco. Chi penso.